Signor Sindaco, la nostra associazione bodistica ASV Atletica Apricena, con l'organizzazione della prima madre pietra RAN Città di Apricena, oltre a promuovere i valori dello sport nelle varie sfaccettature, vuole mettere in vetrina i magnifici angoli del nostro meraviglioso centro storico. Penso al Largo Sant'Antonio, con l'antica piazza Campo di Fiori, prima volta toccata da una manifestazione sportiva, e all'imponenza del castello baronale situato in piazza Federico II, e al museo a cielo aperto, rappresentato dalle varie sculture poste sul rinnovato Corso Roma, valorizzate da questa amministrazione comunale nella persona della Sindaco qui a fianco a me, Antonio Potenza, ed esibire a tutti gli amici sportivi che verranno a gareggiare e i forestieri che ci verranno a trovare, la nuova e spavillante opera voluta fortemente dalla nostra amministrazione comunale, rappresentata dalla nuova rotatoria, la porta delle gare della nostra città, della madre pietra, dove ci sarà il giro di boa della gara potistica. Ci tenevo infine a ringraziare i nostri sponsor e in primis il gruppo Business Center, nella persona di Matteo Rigieri che ci ha permesso di organizzare questa manifestazione sportivo. Paso alla parte. PASSA